Io sono Chico, lui è Samuel, il cantante di Subsonica, il suo backstage, tantissima gente, ma non vi ho ancora salutato, ciao, io sono Chico E oggi la mia giornata è iniziata col treno, avevo bisogno di un'idea perché siete tantissimi a scrivermi Chi mi chiede un saluto, chi il mio collarino, e io dovevo trovare qualcosa Perciò il papà e la mamma mi hanno portato in una città d'arte, per trovare ispirazioni Ma qua erano tutte statue come Ettore, e io avevo bisogno di parlare con qualcuno Perciò la sera, da solo col papà gli ho detto, mi avete fatto camminare tutto il giorno, quindi zitto e guida E mi ha portato da Samuel, quello vero, e dopo che sono stato con lui nel backstage, sapevo cosa fare Il giorno dopo siamo tornati, ho chiesto a papà una mano, e lui ne aveva proprio due Ci siamo messi subito al lavoro, e poi dopo tanto tempo, finito Abbiamo dovuto aspettare un po', ma poi è arrivato un pacco Nel pacco c'era tutto il lavoro che avevamo fatto, e che potevo darvi? Un'estuccia, una borsetta col mio nome, sono due cose semplici, alla portata di tutti, le trovate sul sito in bio Un'estuccia, una borsetta col mio nome, sono due cose semplici, alla portata di tutti, le trovate sul sito in bio